ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ai vostri video finalmente possiamo dare di nuovo un'occhiata ai video che ci inviate con i vostri orologi e per me è sempre motivo di interesse perché mi siedo qua con un contenitore che poi la cartella nel computer con dentro dei file che così sono dei freddi oggetti cibernetici informatici che però in realtà contengono tutta una serie di emozioni che sono le vostre cioè i vostri video con i vostri orologi con la vostra storia le vostre scelte anche i vostri difetti no perché non è che siamo tutti perfetti io in primis però per l'amor del cielo è sempre una curiosità è sempre qualcosa di interessante anche vedere come come vi muovete dove andate cosa fate un fiorino a cose del genere detto questo oggi sto indossando l'orologio da riposo e ragazzi l'orologio da da casa con l'aria condizionata in tranquillità cioè il mio long jean vintage del 1967 con calibro 490 34 mm di diametro cassa quadrante bello vissuto molto particolare per questa secondina qua ad ore 6 con i numeri con le cifre agli antipodi diciamo così è un orologio bello il calibro 490 è il calibro a carica manuale che deriva direttamente dal election 885 cioè non è un calibro fatto da login è un calibro che non si imprendeva da election poi rimarchiava modificava e incassava giusto proprio per erano i periodi quelli no delle ristrettezze economiche bisognava andare a pescare dopo il 30 l hanno fatto hanno usato questo qua come calibro manuale poi hanno usato anche calibri della record record hanno acquistato con l'azienda quindi erano i calibri sono diventati di proprietà loro funzionava così a quel tempo lì no prima o poi dopo dell'avvento del non del quarzo vabbè c'era l'ultronic l'ultra quartz l'ultronic l'ultra quartz l'ultracron automatico quel periodo lì un pochino fine anni 60 che era grigio grigio incominciava arrivare the winter is coming il quarzo arrivava da oltre la barriera stava per arrivare il quarzo è pericolo pericolo vado ai discorsi inutili e ci guardiamo i vostri video la barra spaziatrice qua gli occhiali me li devo mettere però fuoco ciao davide mi chiamo sandro è giusto per allargare un po i tuoi confini ti mando questo video dall'inghilterra questa è la collezione mia del mio partner e cercherò di spiegare il razionale dietro ad ogni orologio inizio dicendo che noi non abbiamo un everyday watch ma in linea di massima utilizziamo tutti molto spesso perché altrimenti tutto sommato che senso ha averli credo che ogni collezione inizi e sia importante che ci sia uno swatch e questo è quello della collezione mission mission to neptune al momento in cui l'ho comprato era molto molto raro da trovare avrei potuto venderlo per diciamo per rifarci soldi ma io tutto sommato faccio un altro lavoro nella vita non faccio il commerciante di orologi quindi ho deciso di tenerlo è carino è simpatico in determinate occasioni sicuramente può essere utilizzabile niente di particolarmente importante passiamo poi ad un orologio sicuramente più di livello che è questo baume mercier ed è un clifton sono 40 mm è un orologio automatico con 120 ore di riserva di carica certificato cosc è molto carino molto leggero ha una gran bella maglia veste benissimo tutto sommato pur essendo un 40 mm risulta leggermente piccolo al polso però probabilmente per la forma della ghiera completamente assente intorno però sicuramente un bel orologio da poter utilizzare va bene la ghiera non avevo mi ero poi comprato un datejust eccolo qua questo è il Wimbledon so che tu non sei particolarmente amante dei numeri romani ma io ho dato il top è proprio perché insomma è perché è fatto bene so che è fatto bene perché c'è il digest 41 anch'io il digest 41 e quindi so che l'insieme è ben fatto però questo orologio qua non si può vedere dai i numeri romani verdi e il indice ma cosa ce l'hai fatto a fare quell'indice lì che numero ce ne andava il 9 mettici il 9 no mettici il 9 lo sommato invece io li trovo assolutamente assolutamente deliziosi è la versione oro ed acciaio 41 mm automatico calibro 32 35 con riserva di carica di circa 70 ore 100 metri di impermeabilità credo che siano stati spesi ore ed ore di video ovunque sul datejust non credo ci sia niente da aggiungere è un orologio bellissimo che funziona in maniera meravigliosa per poter utilizzare sia in maniera sportiva sia in maniera elegante per andare a teatro per uscire o perché no anche per andare al lavoro è talmente bello che la mia dolce metà ha deciso che sarebbe stato suo e quindi io sono rimasto senza e niente e quindi questo è andato non è più non fa più parte della mia collezione io sono sempre stato innamorato dei day date anche questo problema parte che il day date della rolex costa una cifra esagerata ma poi è fatto solo esclusivamente di materiali preziosi se non sono un grande amante del tutto oro tutto platino eccetera mi piacciono di acciaio o misto quindi mi sono gettato su questo tutto è un tudor royal dei day 41 mm automatico calibro t 603 con una scarsissima riserva di carica di circa 38 ore è in acciaio io lo trovo elegantissimo è molto bello è leggero è fino a un bel bracciale si mi piace anche a me il tudor royal però non questo qua con i numeri con i numeri romani perché poi ci sono numeri romani e numeri romani ma qua sono ben evidenti ben invadenti 38 ore di riserva di carica perché questo qua incassa il sellita o o leta uno di quei due calibri lì per quel motivo lì che anche la riserva di carica corta è un indice è una caratteristica indicativa che non ha il calibro di fornitura o di manufattura poi è bello la ghiera così zigrinata il bracciale in questo modo come si dice bracciale integrato eh ci piace ci piace però non questo qua molto portabile in ogni in ogni occasione ed è uno degli orologi che pur usandoli praticamente tutti tutti i giorni è uno di scusa tutti i mesi è praticamente uno di quelli che io indosso più spesso lo trovo assolutamente bello l'unico problema è che effettivamente o sta al polso o sta nel winder o altrimenti se batti gli occhi una volta la riserva di carica è terminata dopo questo ebbi una fortuna un po di tempo fa di poter di riuscire a trovare un Daytona anche questo niente da dire è un orologio sicuramente molto conosciuto è un orologio abbastanza spesso è un orologio abbastanza pesante e io adoro sentire gli orologi al polso quindi tutto sommato questa è una caratteristica che molti trovano magari diciamo quasi un difetto io lo trovo in verità un pregio è la versione yellow rollsor in acciaio ed oro 40 mm caribo 41 31 riserva di carica 70 ore 100 metri di impermeabilità un orologio meraviglioso eccolo qua bellissimo ora a riguardo del peso non mi ha fatto venire una considerazione un pensiero io non li divido gli orologi in base al peso non mi sono mai interessato se un orologio è pesante o leggero mi infastidisce leggermente quando ci sono gli orologi in titanio troppo leggeri che mi sembra quasi di non averlo al polso sembra un incongruenza l'occhio vede una massa di metallo e il polso percepisce qualcosa di molto più leggero no questo è fastidio probabilmente però mi ci abituerò anche perché ho provato degli orologi in titanio che in realtà non sono così leggerissimi no probabilmente perché il senso di esiste del titanio è nel momento in cui un orologio massiccio grande braccialato quindi sarebbe pesantissimo in titanio diventa meno pesantissimo però pur sempre percepibile al polso ecco acciaio e oro ecco il mio acciaio oro il deja faccia e oro magari è un pochino più pesante degli altri perché loro ha un peso specifico maggiore oppure il diver 300 di omega quello lì è abbastanza pesantino dopo un pochino incomincia a sentirsi avevo il più pesante che ho mai avuto è l'omega sea master planet ocean da 45 quello non vedevo quasi l'ora di togliermelo a un certo punto e lì potrebbe anche essere un punto debole forte nel momento in cui dicevo basta adesso me lo devo togliere mi devo mettere ecco questo qua per esempio è leggerissimo per quello che dico da casa da riposo perché leggerissimo come per esempio leggerissimo il mio calamai è molto leggero col nato oppure il villervetta no sottile anche lui col suo nato dipende poi dipende da come uno si sente cosa vuole indossare non è che c'è una regola precisa dopo questo avevo avevamo voglia di prendere un gmt e ci siamo gettati su un altro tudor un black bay e anche qui c'è un motivo particolare io ti scritti è vero che ti mando un video dall'inghilterra ma come si intuisce dal mio accento non sono esattamente madrelingua sono originariamente di siena come come ben sai a siena c'è una cosa particolare che si chiama il palio e la mia contrada di colore bianco listata di blu rosso e nero eccolo qua e quindi un orologio bello che oltretutto mi ricorda tutto sommato casa e bracciale molto presente al polso molto pesante però però te lo devo dire bracciale non c'entra una cipa lippa dai non ti offendere ma va bene che vuoi omaggiare celebrare la contrada che ora vorrei anche indovinare cos'è questa contrada non è che le conosco però così la butto lì la contrada è quella del non lo so il bracciale nero fa defecare diciamocelo chiaramente non vorrei essere volgare che non è nelle mie corde no però però effettivamente fa una gran bella figura e funziona in maniera meravigliosa avevo perso il diciamo perché mi era stato portato via il date just e sono riuscito poi a trovarne un altro quindi questo è la versione solo acciaio stesse caratteristiche come precedente 41 mm automatico sempre il solito calibro 32 e 35 100 metri di impermeabilità molto carino da tutti i giorni forse addirittura più da tutti i giorni di quello oro ed acciaio ma avete la capacità di scegliere dei just peggiori del mondo e ora mi permetto io di avanzare questa critica ma quell'altro verde i numeri verdi e l'indice solitario sto qua tutto bianco che di just 41 già nel col bianco poi risalta ancora di più la dimensione non lo so ma un bel bel day just no quel bracciale giubilì la ghiera zigrinata blu quelli grigi è un orologio che sicuramente è adatto a tutte le occasioni occasioni bravo 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 ho poi trovato un orologio quando facevo un viaggio all'estero che mi ha colpito particolarmente credo tu lo abbia recensito anche te è questo longin hydro conquest gmt sono 41 millimetri spesso 13 millimetri quindi molto spesso è pesantissimo sono 181 grammi e come ho detto prima è sicuramente un fattore che a me piace molto sentirlo al polso una riserva di carica di 72 ore e alla particolarità di non pur essendo un gmt di non avere le ore ma di avere i minuti perché appunto essendo un hydro conquest poi è uno è un orologio subacqueo ora lì è una scelta della casa di quale orologio ti vuole proporre no in questo caso abbiamo un diver perché sulla sulla inserto ghiera ci sono i tempi di immersione 10 20 30 40 50 quindi non puoi misurare non puoi prendere come punto di riferimento il tempo mentre il mio mido ocean star ha sul 200 metri di impermeabilità ci vado anche al mare anche con quello mido ocean star gmt sulla ghiera alle 24 ore e quindi predilige darti l'informazione del fusolario dipende un pochino dalla scelta della casa non è sbagliata né una né l'altra è questo che voglio dire molto bello bello il bracciale molto solido ben fatto sicuramente piacevole da portare ma certo ci piace ho poi anche trovato questo che ho pagato veramente due lire e quando dico due lire credimi perché il 50 per cento o più del prezzo di questo di questo orologio mi era stato dato con un buono disconto quindi veramente è stato regalato è carinissimo in verità a volte fa più effetto questo degli altri orologi molto più diciamo di marca che ho è un citizen suiosa lo conosci perfettamente ne hai fatto la recensione o comunque ne hai parlato nel tuo canale più di una volta se non sbaglio hai il calibro della serie 8 è impermeabile giusto appena per far la doccia perché fino a 50 metri 40 mm carinissimo un orologio che si può portare senza il rischio che ti stacchino il polso ora sul discorso di 50 metri cioè 5 atmosfere giusto per fare la doccia ecco veramente quella la doccia è quella situazione nella quale nemmeno 100 metri ci andrebbe portato nel senso che ora non fraintendetemi è la temperatura la temperatura e i vapori che possono dare fastidio all'orologio non è il getto d'acqua quello che vuoi la temperatura se la temperatura è troppo alta potrebbe dare fastidio soprattutto su certi orologi magari che il controllo di qualità magari è quello che è cioè non voglio dire io per esempio la doccia con il mio omega 300 si master l'ho fatto la faccio non è caldissima però la doccia non ho un problema però io so per esempio che quell omega si master 300 quando gli fanno i test metas e questo vale per tutti gli omega certificati metas fanno le prove addirittura anche con la temperatura cioè scaldano l'orologio gli lasciano andare sopra una goccia ghiacciata guardano si fa la condensa e poi passa cioè ha dei parametri di resistenza che sono differenti da un cosa ne so uno un bulova con dentro il mio 8 8 mila che costa 300 euro capito quindi mi permetto anche di fare queste queste operazioni speciali particolarmente pericolose però in teoria la temperatura troppo alta gli può dar fastidio agli orologini agli orologini dal braccio perché purtroppo questo è un è un problema che che chi per chi come noi ama gli orologi sta diventando sempre molto più presente io ho la fortuna di vivere in un posto dove questo non è un problema ma certamente viaggio molto e bisogna che stia attento a dove vado e a ciò che faccio questo è un orologio che sicuramente è utile per quel tipo di situazione bravo giallo poi a un altro pezzo tutto sommato molto pregiato patek philippe calatrava ma come tutto sommato tutto sommato pregiato come tutto sommato pregiato questo è il mio orologio preferito in questo momento perché poi cambio cambio cambia la niente dipende cosa pensa lei lei pensa e poi dici no questo qua ma così con la nocina questo no questo è lei in questo momento il patek philippe calatrava questo cos'è non riesco a vedere i riflessi se è oro oro bianco oro rosa bello questo qua top con tre con tre stelline un top al massimo della sono fatto influenzare bello questo è un orologio completamente diverso è leggerissimo leggerissimo e manuale sono 39 mm spesso 8 mm ha un calibro di manufattura di manufattura che il 30 255 ps dove ps star per petit second che sono appunto i piccoli secondi che è fatto da 164 parti in 2.5 mm di spessore con 28800 alternanze ha il fondello trasparente se riesco a toglierlo te lo faccio vedere oppure che viene al fondello trasparente è una meraviglia da guardare con la lente e cercare di capire quello come è fatto una particolarità se si nota qui sulla ghiera c'è questo pattern particolare che ha un nome francese molto difficile da pronunciare che credo si dica guillo o comunque si chiama anche claude pari e la particolarità è che sono dei piccoli delle piccole piramidine fatte a mano uno per uno è un orologio stupendo ha il pregio o nel caso mio forse il difetto di essere leggerissimo al polso praticamente non si sente nella maniera più assoluta gran bello orologio strano perché materiale prezioso quindi loro solito più pesante però ce ne sarà poco di oro nel senso non perché tendono a risparmiare che c'è i bracini corti nel senso che è sottile è compatto è minimal e ci sarà poco materiale per quello no amici di patek philippe non volevo offendervi che siete tirati se no dopo non mi vendete più gli orologi oddio vederlo così mi è venuto anche un brividino alla schiena a vederlo cioè a prenderlo una cosa che però mi preoccupa è poi il giorno che dovrò fare una revisione di un patek philippe quanto quanto minchia vado a spendere cioè la porto mica dall'orologia io no ma ho mandato dagli amici lassù e quanto ci costa però un pensierone questo vendere qualcosa e pigliarlo un pensierone soddisfazione della vita cosa ne frega sono 28 23 25 ultimo arrivato eccolo qua il root beer 40 mm oro rosa è un gmt calido 32 85 kosc 100 metri è il classico gmt della rolex non ha avuto un successo secondo me incredibile probabilmente per il proprio per il fatto di essere di oro rosa è comunque un orologio bellissimo e noi l'abbiamo visto ci è piaciuto tanto e abbiamo deciso di aggiungerlo alla collezione va bene davide ti ringrazio per il tempo perché sono andato sicuramente molto lungo spero che questo video verrà pubblicato aspetto un tuo commento e nel frattempo come al solito love 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 ma cosa commento quanto gli diamo a sto ragazzo qua non vuole esagerare mi tengo sul 9 dai sul 9 il 9 glielo do tutti i signori orologi anche lo zuiusa tutti i signori orologi tutti signori orologi anche se poi voglio dire avete visto la maggior parte di questi non rientrano nei miei gusti e gmt qua in fondo non mi piace bello top però non fa per me in realtà nessun gmt fa per me nessun gmt della rolex i due dei just non sono dei miei gusti io ce l'ho ho sempre scelto altre configurazioni il quadrante blu per esempio scelto per prima e poi dopo il quadrante nero sul sull'acciaio oro pochino più sono un pochino più sovrio io non sono più elegante sono una persona poi c'è parte il filipi calatrava e poi c'è tutti vabbè dai nove te lo sei te lo sei meritato adesso vado subito a vedere quanto costano gli orologi tanto però guardiamo gli altri video ci vado dopo da tra un gattino e l'altro vado a vedere quanto costa il calatrava ciao davide mi chiamo tommaso ho 11 anni e vivo a roma oggi ti farò vedere la mia collezione di sei orologi di cui due quarsi e quattro automatici senza dilungarmi troppo iniziamo i primi due orologi che ti farò vedere sono quasi il primo il primo quarsi è un orologio della roma official bravo chiuso cinturino in gomma rossa originale me lo hanno regalato prima della mia passione e in quanto sono romanista lo tengo lo uso per andare allo stadio perché non vorrei che gli altri orologi non li rubassero tancredi odinela righetti faicao maldera conti ancelotti pruzzo di bartolomei graziani io questa formazione qua la sua memoria dovrebbe essere quella della finale di coppa dei campioni dell'ottantaquattro ottantaquattro sì il secondo il secondo anche se penserei sia una ciofeca ma per il mio gusto mi piacerebbe il cronografo che andava di moda negli anni 90 la forma il colore del quadrante anche se al quarzo è difficile da leggere un fondello chiuso e bracciale in acciaio arrivando ai pezzi forte della collezione troviamo laco pilot con quadrante blu type b coro una cipolla e fondella aperte che mi è stato regalato per la promozione alla seconda media bravo che faccio vedere meglio certo grazie 39 millimetri un orologione per te questo è 11 anni questo orologio mi piace perché la sua storia mi affascina laco è una marca di orologi delle tedesche che usavano i piloti dovevano essere molto resistenti e impermeabili al posto il 12 ci doveva essere una freccia poi durante la notte per leggerli misero una fluorescenza su numeri lancette così che si potevano leggere anche di notte è il mio orologio preferito che metto tutti i giorni promosso è questo bravo passiamo ad un emilton khaki field automatico 100 metri che utilizzo per le occasioni speciali insieme al baltic che ti farò vedere dopo fondello chiuso quadrante nero cinturino nero e marrone lo utilizzo spesso il prossimo è un baltic acquascafe bronzo 200 metri automatico con la ghiera colore nero e con i numeri 369 12 e gli indici non mi so scegliere su quale mettere a volte tra questo e l'emilton di prima ma questo è davvero molto interessante come orologio lo utilizzo al mare ah certo concludendo bene un 6 co 5 automatico con datario quadrante bianco cinturino in acciaio e fondello aperto il 6 co 5 non lo uso molto ma mi piace averlo in collezione certo comunque io indosso i miei orologi alternandoli ti faccio vedere una panoramica di tutti quanti che belli orologi ragazzi eccoli stavo pensando di comprarmi un orologio con un budget di 250 euro massimo ho letto qualche tua recensione ma non ho ancora scelto spero ti sia piaciuto alla mia collezione e grazie davide per tutte le tue trasmissioni e buone vacanze love and rock grazie tommaso sei un grande allora tanto diciamo che la tua collezione si merita un 10 è la prima volta che diamo un 10 a qualcuno su questo canale e sicuramente tommaso si merita il 10 non tanto per quel braille che rimarrà sul tuo gruppone per tutta la vita neppure per quel plastichino che è dedicato a roma che pur essendo una grande squadra insomma non è un orologino così ma per tutti quegli altri orologi che per un bambino di 10 anni i ragazzi andrebbero bene anche per me con gli orologi lì non è che diciamoci la verità bravo Tommaso se già pensare al prossimo obiettivo la scimmietta sulla spalla se c'hai 11 anni la tua scimmietta è alta così è piccolina così è piccolina così però mi sembra che spinge che ti indica quello che vuole molto molto velocemente vabbè quando avrai preso anche l'altro orologino budget 250 che insomma ce ne sono di orologi entro i 250 poi se riesci a prenderli o a sconto in negozio oppure qualche offerta sui marketplace maggiori prendi anche dei begli orologi il ProMaster Marine, Citizen ProMaster Marine, un Citizen ProMaster, un Kamasu, un Orient 6 o 5 di quelli ce la fai secondo me ce la fai bravo bravo Tommaso piccoli appassionati crescono bravo ciao Davide ciao sono Lauro un saluto a tutti gli amici del canale Lauro volevo presentare i miei vintage partendo da più vecchietto qui abbiamo un EVC bello casse in oro 18 carati come si vede il quadrante ha tutta la sua patina anche rovinato la corona come si vede è integrata nella cassa cassa moneta anzi a ragno qui abbiamo il suo calibro un C60 i conti sono lavorati a cottegene come si vede bello molto bello eh questo sarebbe il modello Inca è riportato anche sul quadrante qui e di che anno hai già detto praticamente sarebbe il primo calibro primo orologio prodotto da EVC con cassa ermetica sarebbe antipolvere e anti umidità sembrano un po' storte le ansie un po' troppo aperte forse un po' diversa poi abbiamo il suo fondello in oro con riportato tutti i suoi punzoni seriale e quant'altro c'è il martello poi passiamo un crono del 1951 qui abbiamo un Breitling oppala che bello Breitling modello cadet quadrante argente numeri arabi le sfere sono differenti la corona marcata Breitling cassa cromata cromata? qui monta un calibro venus 188 che bellino che è il suo ponte marcato Breitling monta il suo fondello in acciaio e cassa cromata da 37 mm cassa cromata è un peccato però è bello molto bello complimenti qui abbiamo il fondello in acciaio che riporta i vari punzoni poi c'è i suoi seriali passiamo a un altro crono sempre del 1951 qui abbiamo un altro Breitling questa è cassa cromata e laminata in oro cromata e laminata sempre modello cadet sempre con la sua corona marcata e monta sempre il calibro venus 188 bello finitura differente fonte marcato qui è sempre il suo solito fondello in acciaio poi passiamo in casa zenith con questo zenith del 1952 52? questo è un fuori misura da 37 mm la sua bella patina sul quadrante come si vede numeri romani numeri arabi qui monta un calibro 126.6 la particolarità di questo orologio è che non è in oro praticamente questo è un bagno d'oro 40 micron come si vede anche il fondello non è in acciaio ma bensì anche questo in bagno d'oro sia esternamente che internamente poi passiamo sempre a un altro zenith fondello placato questo è del 57 questo è in oro noro rosa che qui suba il quadrante con la sua patina 18 carati numeri romani numeri arabi corona originale marcata zenith questo monta un calibro 106 bel pulito è preciso bravo fondello in oro sempre marcato sui vari punzoni ecco lì con la testa di martello la vedete? poi passiamo a un altro crono qui siamo già negli anni 60 questo è un DREFRA DREFRA cassa da 37 mm quadrante champagne champagne qui monta un calibro Landeron 248 248 cassa sempre cromata laminata in oro cromata laminata in oro non capisco se lo dici con cognizione di causa poi passiamo al 1970 con questo ma c'è il maglione Bulova di forma 30x30 bellino questo qua dai con il suo calibro di manifattura addirittura Bulova sempre Bulova bellino questo qua questa particolarità di questo orologio è che ha la cassa a cerniera praticamente si chiude si apre da qua si solleva questo e si apre la cassa in tre pezzi poi arriviamo ai primi anni 70 con questo Omega cronostop cronostop buono pulsante tutto originale anche il vetro ha il suo marchio il suo logo Omega al centro qui al centro bello ancora una marcata qui ho messo un cinturino un lato in nylon poi per finire andiamo casa Cartier questo Cartier carica manuale qui siamo nel 1983 83 camminato in oro piccolino di micro tutto marcato anche dietro e con questo finito ah dimenticavo l'orologino del giorno è questo iwc ingegnere top orologio a quarzo creato dal grande Gera Argenta da 34 mm un quarzo come si vede basta un saluto e a tutti gli amici canale e anche a te alla prossima ciao 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 niente ritiro al top ho visto l'ingegnere che bello poi da 34 piccolino al quarzo ecco una delle cose che io non contemplo è prendere un orologio come l'ingegnere al quarzo mi spiace ma non fa per me io lo vorrei meccanico automatico in tutto in tutto il suo splendore al quarzo no niente è una bella collezioncina di vintage ti dedichi al vintage sono tutti secondo la tua descrizione sono tutti laminati questi laminati io non so prendo per buono spero che tu lo dica con cognizione di causa perché a volte hai detto cromato e laminato insieme non riesco a comprendere cosa significa che la cassa l'hanno cromata e poi l'hanno laminata in oro mi sembrano due lavorazioni superflue no una una scuola dell'altra comunque un bel set 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 ti do un set un bel set soprattutto per quei brightling iniziali che mi hanno fatto abbastanza impazzire mi sono piaciuti molto i begli orologi poi insomma più che altro si percepisce no anche ad ascoltarti che sei un appassionato di vintage di quegli orologini lì dei tempi che furono e ci piace complimenti prossimo video ciao davide sono sempre caetano dalla provincia di napoli come vedi alla fine poi il glissing l'ho portato a mare bravo si sta divertendo ha imparato a nuotare sta prendendo il sole sta facendo il bagnetto buono buono ma questi effetti audio insomma mi sta dando dai tante soddisfazioni bene o male e niente ragazzi dobbiamo anche dobbiamo anche sopportare queste paturni degli appassionati che si riducono come dei bambini come dei bambini di 12 anni a fare questi video così mi scappa da ridere perché voglio dire magari sta qua è un uomo grande grosso che fa anche un lavoro di prestigio di responsabilità e si riduce a fare il video così con l'orologio sulla straia e la palma vabbè stendiamo un velo pietoso gli diamo non classificato e passiamo al prossimo video perché sennò ciao davide sono Antonio ciao davide sono Antonio da Vicenza questo è il mio secondo video e per chiedere un consiglio a tutti gli amici del canale e anche a te su questo orologio qui il alpinist avevo comprato la versione con bussola la si poteva vedere nel mio primo video però diciamo che la bussola non è che serva più di tanto le medesime cose le si possono fare dopo un attenta un piccolo studio anche con un qualsiasi altro orologio lancette ecco a me piace molto questo orologio qua come field watch e il prezzo è abbastanza contenuto io gli ho dato 400 euro di questo usato ancora in garanzia ha una garanzia di altri due anni però dopo una stupida caduta si è rotto il bilanciere questo indice si è spostato quello delle ore 4 secondo te è un qualcosa che è possibile andare a riparare o si rischia soltanto di peggiorare la situazione mi chiedo e in seguito mi è stato proposto di cambiare l'intero movimento di questo orologio non solo il bilanciere per 280 euro lavoro più movimento ecco chiedo un parere se qualcuno sa dirmi dove potrei rivolgermi magari per cambiare solo il bilanciere andare a risparmiare qualcosa o se vale la pena farlo cambiare per intero e basta ecco magari non lo so qualcuno nel canale ha un bilanciere della Seiko da vendermi bilanciere a casa lo porto dal mio orologio e lo faccio sostituire poi non so se riuscirà a riparare quel a rimettere a posto quell'indice luminoso grazie a tutti l'orologio del giorno è il mio fedelissimo promaster NY0040 della Citizen piace molto la Citizen e direi che è un orologio fantastico veramente fantastico e questo cinturino è la morte è sua va bene grazie Davide ancora per i tuoi video per la passione che metti in tutto quello che fai e alla prossima love 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 ora video atipico ragazzi non me l'aspettavo ora io non sono un esperto non sono un orologiaio non sono un tecnico non ho idea di cosa fare detto questo sono rimasto abbastanza basito dal fatto che l'indice si è spostato come fa a spostarsi un indice si stacca e poi va a marengo dentro al quadrante a girare spostarsi ho guardato bene non ho capito cosa è successo sinceramente può darsi che si è staccato e poi si è incastrato un pochino più in là si è incastrato ma non è che si è spostato nel senso che ha preso il colpo ha fatto il passetto e è andato più in là si è incastrato probabilmente se te gli dai un altro colpetto l'indice comincia a volare per il quadrante perché è staccato quindi si può mettere a posto e si può mettere a posto si con un orologiaio probabilmente con la colla sicuramente te lo sistema penso io presumo perché se c'è il piedino dentro rimasto il piedino dentro al foro va fatto così togli il piedino per quanto riguarda il bilanciere affidiamoci agli amici qua del canale sotto qua scrivete un po' le vostre opinioni ma soprattutto se potete conoscete qualcuno che può aiutarlo gli hanno chiesto 280 per cambiare tutto il movimento a me mi sembrano un po' tantine un po' tantine secondo me si potrebbe fare con meno della metà o con la metà ma 280 sono tanti ragazzi pubblico il video e cerchiamo di aiutarlo se qualcuno può aiutarlo e c'è un bilanciere che gli avanza qualcuno c'è un bilanciere della Sego ha detto c'erò io un bilanciere che mi avanza ecco fatto che poi l'asse del bilanciere si è rotto una volta stavano lì magari a rifare l'asse del bilanciere ma si cambia il bilanciere via dai aiutiamolo se qualcuno può lo aiuti ciao Davide sono Ferdinando dalla provincia di Loreto appassionato di orologeria da poco più di un anno ti mostro subito la mia collezione i libri mi piacciono i libri allora Tissu PRX lo conosciamo tutti un elemento powermatic 80 io ho preso il quadrante nero bracciale fantastico soprattutto considerando quanto costa questo orologio il calibro nonostante non sia un calibro diciamo d'eccellenza ma più che d'eccellenza non è nemmeno chissà quanto raffinato però molto molto preciso quello si lo consiglio a tutti perché spende poco comunque sia un ottimo orologio c'è la scatola quella mia Diver che uso per andare al mare DOXA sub200 quadrante loro lo chiamano acqua marina quadrante celeste bracciale chicchi di riso anche questo tu l'hai recensito quindi non è che mi soffermo più di tanto il movimento è un sellita sv200 lo conosciamo tutti poi l'anno scorso avevo uno squale 15-21 per andare al mare poi quest'anno ho deciso di cambiarlo anche perché sono orologini che costano poco quindi rivendendoli e comprandoli per cambiare diciamo non è che si perdono moltissimi soldi è quello che ho sempre detto io ed è bello anche avere orologi nuovi l'anno scorso ti volevo dire che lo squale 15-21 che avevo aveva sempre un sellita sv200 però mi guadagnava più di 20 secondi questo invece me ne guadagna solo 5 sappiamo poi che con i sellita sv200 è così poi avevo è così quando uno prende in cassa il movimento standard è così può capitare quello a più 20 può capitare basta farlo regolare oppure farlo presente anche da chi l'ha acquistato magari se uno prende il sellita sv200 invece magari elabore o top grade il range di tolleranza è inferiore quindi sono più precisi più regolati meglio con materiali migliori diversi orologi che ho venduto un Black Bay 41 acciaio e oro da 41 mm anche lì acquisto sbagliato perché non era quello l'orologio né da comprare acciaio e oro né da comprare da 41 mm secondo me ho deciso di vendere tutto per comprare pochi pezzi e buoni questo è il primo Cartier Santos ce l'hai anche tu bravo se non erro hai anche il Doxa probabilmente è un grande orologio elegante bello inizialmente non mi piaceva quando mi sono appassionato i primissimi mesi perché nella mia testa l'orologio poteva essere solo rotondo e invece poi andandolo a vedere in gioielleria provandolo al polso il bracciale è magnifico ma al polso poi anche questa cassa così particolare sta benissimo fa tutta un'altra figura il calibro è un calibro di manifattura anche se poi andando a vedere sui forum vedo che viene comunque bisfrattato ma da quello che ho capito sui forum gli appassionati di orologeria bisfrattano tutti i calibri li considerano ogni argomento su un calibro ogni discussione su un calibro trovi qualcuno che ne parla male e allora sarà proprio una categoria che siamo fatti così non ci accontentiamo mai ultimo orologio che ti faccio vedere Omega Seamaster Acquaterra versione shades quella con le maglie non piatte ma diciamo bombate so che non è il termine tecnico però ci siamo capiti almeno spero ci piace di più altra differenza che dalla versione diciamo classica è che il quadrante è un quadrante pulito non ha le linee orizzontali il datario è sempre a ore 6 qui il calibro nemmeno mi soffermo anche se tornando al discorso di prima anche andando sui vari forum e leggendo di questo calibro ne parlavano come un ottimo calibro industriale e nulla di più e vabbè invece secondo me ho un gran bel calibro mi guadagna solo due secondi al giorno e sono soddisfatto anche delle proporzioni dell'orologio di come mi sta il polso gli indici sono in oro bianco è un orologio raffinato secondo me molto elegante va bene tutti i giorni lo puoi portare diciamo la domenica così come lo puoi portare al lavoro così come te lo puoi portare in vacanza 150 metri quindi volendo lo puoi portare anche al mare io non ce lo porto perché è un orologio che dà moltissime soddisfazioni versatile un gran bell'orologio con un gran bel calibro tutto qua bravo mi fermo poi un domani amplirò la mia collezione magari ti manderò un altro video mi mancherebbe un crono mi mancherebbe un GMT mi manca un Rolex sono in lista da più di un anno ma non mi si cagano di striscio e niente ti ringrazio per il canale ti faccio anche i complimenti grazie diciamo che i video che vengono fatti dagli appassionati ci alimentano la nostra passione stop stop ciao ciao e grazie grazie oh ci aveva fatto un caro saluto ti do un bel sette la collezione c'è la scatola da 12 da 12 slots da 12 postazioni e c'è i due orologi messi in croce e la scimietta richiede finché non li vede tutti occupati lei va in crisi finché non li vede tutti occupati lei ha gli occhi fuori dalle orbite così dice cos'è tutto questo vuotume che c'è in questa scatola non si può vivere con questo vuotume nella scatola e li vuole tutti pieni te ce ne è pochini veramente pochi però gli ultimi due soprattutto no ma anche gli altri è inutile fare i razzisti Doxa anche lì è bellissimo stupendo ci piace tantissimo il PRX uguale ci piace tantissimo il Cartier Santos forse bianco così come ce l'hai te è meglio del mio guarda cosa ti dico forse bianco è meglio del mio blu soleil da un po' fastidio invece bianco così con i numeri arabi neri romani neri ci piace e poi l'acquaterra così in versione liscia quadrante liscio shades è particolare non so se mi piace più questo o quello classico con il quadrante a righe a scavato non so sarebbe da vabbè tanto io c'è il mio acquaterra col calibro 2005 dei primi anni 2000 sono contento così per adesso sotto quel lato lì dai niente da dire sul fronte occidentale adesso devo andare a vedere i gattini su instagram quindi vi devo lasciare ragazzi io vi ringrazio per essere arrivati fino a qua aver guardato il video con me tutti questi bei video tutti questi bei orologi che ci alimentano the monkey e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love grazie a tutti